ciao come stai? si dai la pastola sta bene grazie hai ragione hai proprio ragione concordo pienamente sì sì, ma ti ricordi che mi ero presa quel kit no no, quel kit per il contorno occhi della Imim si mi ero trovato un sacco bene esatto si e mi ha fatto una testa così da quando hai visto quel video si ho la pelle sensibile anche tu ma infatti io sono la tua cavia io provo sempre tutti i prodotti prima io ho provato anche il cibo tipo gli assaggiatori quelli si per vedere se è avvelenato quindi io sono la tua cavia la tua cavia divina e appunto mi sono presa anche la crema a viso diciamo che fa parte dello stesso kit volendo perché comunque è la stessa marca vedi questa qui beh a top le confessione si packaging tutti neri proprio giusto per noi vabbè adesso ho questa maglietta di rocket raccoon che mi ha regalato shen si su amazon ci sarebbe anche il sito ufficiale diciamo però su amazon si io ho preso tutto su amazon boh se vuoi ti faccio provare sia la crema che il contorno occhi io l'ho già messo ovviamente perché sono truccato non vedi cioè non me la vado a mettere sopra il trucco oh sei matta che pastronio faccio niente lo sto usando da un po' guarda che packaging guarda che packaging cioè top quanto è a noi quali sei a noi questo packaging c'è un suono strano tu non lo senti ma poi io sento sempre suoni strani non è un buon segno dici sarò troppo sensibile ai suoni si suona bene questo tapping niente voglio farti sentire che non ha ancora un odore vero? io odoro le cose perché allora a me piacciono tanto i profumi le cose profumate eccetera eccetera però avere una roba che mi impiastriccia la faccia e ha un odore forte e mi dà fastidio a meno che non sappia di cocco vabbè ovvio però questa non impiastriccia non ti fa sentire appiccicoso come tante altre creme ed ha una profumazione quindi non dà fastidio allora su amazon dice guarda apro qui sul tablet vedi qua dice crema viso anti rughe con acido ialuronico vaffan brodo non riesco a dirlo sta parola me la fai sempre ripetere crema idratante viso anti rughe anti età illuminare il tono della pelle adatto a tutti i tipi di pelle è vero perché se non far irritare la mia vuol dire che è un buon prodotto perché comunque la mia pelle è super delicata come sai è pure la tua lo so allora qua dice idrata rapidamente e aiuta a costruire la barriera idratante della pelle migliora la struttura della pelle e la capacità di autoguarigione ultima di wolverine riduce efficacemente la secchezza la forvora esfolia e rilassa la pelle ah ci sta per no eliminando le linee sottili le rughe le sampe di gallina beh dai ho le sampe di gallina io non lo so anti età ad alta efficacia ricco di ingredienti organici come palmitoil palmitoil non so le pronunce uno pent peptide meno 4 acido ialluronico ottimi effetti idratanti e antiossidanti questo è vero idratanti l'ho notato usalo per aumentare la resistenza della tua pelle e liberarti della pelle irritata rendi la tua pelle morbida e liscia come il culetto di un bambino tonalità della pelle uniforme inibisce la produzione di melanina allevia lo stress della pelle migliora la struttura della pelle e favorisce l'autoguarigione Wolverine Style che aiuta a risolvere i problemi della pelle irregolari dona la tua pelle un bagliore davvero stimolante ho pensato la stessa cosa cos'è Twilight ci sono tutti i film come miglia vedo di me si può usare su pelli sensibili si esattamente è privo di leganti attensanti riempitivi solfati parabeni o fragranze adatto a tutti i tipi di pelle anche a quelle sensibili assorbimento rapido assorbito rapidamente non costruisce i pori che causano sfoghi punti neri brufoli e persino irritazioni la pelle è rinfrescata e priva di grasso dopo l'uso intende unto non è unta ma sennò inolcire a darmelo perché amico di solito mi ha chiesto rumore indovina un po' cosa c'era il camion quello dei mondizi che di solito passa alle 6 del mattino giustamente passa adesso che siamo io e te qua a cellare ma ogni volta che vieni a trovarmi secondo me ti segue ti ha seguito ha detto adesso andata lì a cellare con la sua amica aspetta che passo a far casino come l'altra volta ti ricordi che ti avevo raccontato non ti ricordi ma è che stavo cercando di fare un video in auto questo è merda si sono fermati dietro a fissarmi e io ero tipo sì cacchio se vi levate dalle balle scusate non fate rumore così riesco a fare questo benedetto video ti giuro vabbè comunque la fine quel video l'ho editato è carico ma non l'ho mai messo online e credo che non lo renderò mai online è visibile sì forse solo per gli abbonati che sono tipo zero quindi non vedrà nessuno sarà un video segreto per sempre beh comunque stavamo dicendo della crema vuoi provare il kit o vuoi provarcelo la crema no no nel senso te la faccio provare adesso se vuoi sì hai comunque un codice sconto se ti lascio se vuoi comprarlo ti lascio il link però intanto te la faccio provare io adesso tu non sei truccata adesso ok bene sì c'è troppo caso io sono truccata perché prima ho fatto un video quindi ero già post cioè capito pure il treno deve passare eh facciamolo passare allora se vuoi ti faccio provare anche il kit già che ci siamo perché l'altra volta l'hai solo visto ce l'hai visto nel video adesso che siamo qua io e te di persona ti lo faccio provare ok allora di solito di solito si mette prima cioè io mi metto prima no cioè si fa così ok ma si fa così metti prima il siero poi c'è la crema del contorno occhi poi io mi metto la crema la crema o la crema o la crema 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 o no non so dove si mettono gli accetti giustamente si mettono sempre sotto la mia finestra a urlare e speriamo bene alla casa nuova che non si mettono tutti sotto la mia finestra a urlare cavolo se hai messo di campagna come fanno e mi devi venire a trovare poi e beh ci mettiamo già c'è una manca in giardino e non sto screzzando allora mettiamo quel cliccic sull'indice te lo metto io tu rilassati gli occhi non ti metto un titolo gli occhi gli occhi allora mettiamo nel contorno occhi sotto così e poi sopra un po' e poi vado a picchiettare e a stendere contemporaneamente il lassiero senti che fresco era oddio così ti faccio anche un massaggio facciale non ridere stanno urlando sotto la mia finestra Carlo versi a porta o Carlo io ho capito Carlo tu hai capito Roberta ma vabbè cerca di rilassarti nonostante tutto ciò non ridere ok bene è stato è stato rilassante poi con il kit c'è anche la crema contorno occhi ma fa bene lo so che sono ma sono simpatico non sono dubbio ok adesso mettiamo un po' di crema senti che non ha alcun odore eh quello è bello secondo me allora un po' si si assorbe subito perché a parte che c'è caldo ma anche in inverno si assorbe subito perché è proprio questa crema speciale ok come te la senti bella vero piacevole 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 ok e adesso andiamo di crema no io te la metto con le mani vorresti col pennello ma non lo so sai col pennello non mi piace io no vado sempre a spalmare con le mani di solito col pennello io mi spalmo tipo neanche no neanche e spalmo solo le maschere le maschere facciali si sia quelle che pilof sia quelle che dopo risciacquo di qualsiasi tipo oddio dipende dalla consistenza di solito tu tu ti dà anche no io non riesco mi sembra che dopo restino tutti i segni io quello vado bene con la beauty blender o con una spugnetta che non abbia sedole no il blush lo do col pennello si il blush si un pennellone grosso un grande pennello è un po' del tapping qua peccato che non ho l'oncchio no qua è così ah si mi mangio sempre le pellicine è una cosa che non ma la faccio sovra pensiare ce la fa proprio distinto il mio corpo tipo anche finché dormo quindi boh è il mio sting mi dici doveva essere beh andiamo di crema allora praticamente sei venuta qua solo per questo per provare la crema ma cosa non so te l'ho detto io del kit non lo sapevi neanche che me l'hanno presa la crema viso ovvio che sto scherzando non ti offendere cioè lo so che ti piace stare in mia compagnia perché sono molto simpatica dai vabbè sì mi viene sempre da annusarla perché boh perché ancora non mi capacito del fatto che sembra un pudino non abbia alcun odore non so se si vede sembra sembra panna cotta no sai quelle quei pudini quei de sel ma in realtà questo sì c'aveva la cosa ma penso si sia incastrato dentro e non non ho nessuna intenzione di recuperarlo resterà comunque vedi non è appiccicoso sai è solo cremoso ma una consistenza buono non so ne ho rispicato no ma in realtà qua è sempre un tipo pudinoso ma in realtà non è così super idratoso idratante è perché abbiamo detto pudinoso idratoso no i viti si è già assorbito sulle mie titte aspetta che ne prendo ancora perché allora sono mi sono mi sono mi sono ma per il viso questo ce n'era anche uno per il collo mi hanno detto ma ma per il collo il mio collo guarda non ha bisogno di creme e quindi a parte che ti puoi spolmare quella per il viso sul collo quindi è la doppia funzione risparmi sulla crema giusto beh finisce prima però no vabbè dai basta metto qua sulla fronte che dici sulla fronte io ho una bella secchina eh anche tu anche su una sopracciglia no perché tanto non unge io me la metto anche lì ah si crepi la varice ok poi andiamo qua sulle tempie le guanciotte sul naso sul naso anche il mento di solito è secco vero? si beh oddio dipende io ho la pelle mista diciamo perché ho una naso un po' grasso non perché ho un naso grosso però sai i pori quelli così punti neri mi sembra sempre un po' chiuso il mio naso beh in realtà da quando faccio la pulizia del viso a casa la faccio una volta al mese almeno se riesco anche di più e il mio naso non è poi così più grasso però appunto ci sono delle parti molto più secche anche se bevo adesso sono riuscita ad arrivare a un litro e mezzo dal giorno al giorno di acqua non l'avresti mai detto eh l'ho superata esatto e in questa zona io di solito ci ossicca anche qua infatti quando vado a fare lo scrub questa è la zona in cui ci do dentro maggiormente perché non so che di pelle morde non so se è pelle morde perché non bevo bastardo non ho capito ancora come funziona spiegamelo tu ok come ti senti bella idratata le rughe rimpolpate non avevi rughe allora allora ti piace vincere è facile adesso non hai rughe beh io non ho rughe perché sono una divinità e si sa che le divinità non hanno rughe cioè e se anche le hanno sono bellissime sono delle rughe divine pensi che la prenderai se ti piace beh la trovi su amazon comunque si si mi sono trovata davvero bene con questi prodotti veramente è stata la svolta perché io non avevo una skin care routine e adesso ce l'ho cerco di impegnarmi perché sai che spesso mi dimentico di fare delle cose così però mi piace tanto avere quel momento per fare queste cose qua è rilassante anche prendere sicura di se stessi una volta al giorno per qualche minuto ci stanno come ti lavi i denti ti trovi anche il tempo per metterti queste cose anche perché sono davvero veloci non devi star lì a fare 4.000 massaggi cose basta anche solo spalmarle via c'è un moschettino bello mi rilasso fare il topping su questa scatolina molto piacevole no non ho fatto niente di diverso ai capelli a parte lavarli li avevo lavati ieri sera no però effettivamente ho cambiato ho cambiato shampoo sì prima usavo quello di alla camomilla ti ricordi adesso siccome sono stato in un negozio cinese non è un prodotto cinese è un prodotto tipo terburisteri no terburale una cosa del genere non mi ricordo il nome però ho preso ho guardato in base i capelli ho visto capelli grassi e ho preso la profumazione all'ortica si è tutto cos'è all'ortica lo voglio provare inizialmente non mi sentivo tanto perché ero abitata con la camomilla che anche quello andava bene per i capelli cioè va bene perché ce l'ho ancora ne ho un altro dopo l'ho ricomprato e questo mi sembra che mi secca tanto i capelli in realtà è stato un ottimo acquisto perché anche se sudo i capelli risultano meno unti cioè il giorno dopo normalmente sembravo già capelli unti invece questi seccandomi e poi sai che ho scoperto lo shampoo lo applico soprattutto sulle acute e non tanto sulle lunghezze ci do una passata anche lì ma mi concentro più sulla acute e quindi me li secca bene capito e quindi anche se qui c'è umidità e tutto i miei capelli sono sempre il top è così che si fa conoscendo se stessi e si può sistemare alcune cosucce esatto prima sbagliavo secondo me prima sbagliavo shampoo e poi sai cosa non lo so più passamo perché mi appesantiva i capelli e me li me li faceva sembrare sempre unti sì è che prima decolorandoli erano rovinati quindi pensavo che li far bene col basso ma invece peggioravo secondo me perché sembravano sempre unti sì vabbè sono cose che si imparano pian piano esatto comunque sì non penso che mi rifarò altri colori di capelli a meno che non trovo un lavoro a tempo indeterminato e mi dicono puoi fare quel soperto che vuoi e e allora forse potrei farmi tipo orcobaleno oppure olografici oppure semplicerebbe anche l'effetto tipo sotto di un colore sopra di un altro che dopo quando vai a tirateli su si vede il colore se ti ritieni così magari si vede su un po' qua sì mi piace vedo non vedo perché praticamente ieri sera li ho lavati ma c'era troppo caldo per usare il phon si l'asciugacapelli e e le ho lasciati così poi dopo effettivamente caldo che le ho dovute anche raccogliere sì e secondo me ho preso una piga strana asciugandosi poi sono andata a letto ce ne avevo ancora un po' umidi ho provato un po' asciugarle con l'asciugacapelli ma troppo caldo e lo sto a dormire così magicamente non ho avuto problemi di cervicale perché di solito però è d'inverno più che altro c'era troppo caldo e quindi niente alla fine hanno preso una piga strana quindi sono un po' così beh sì dici che non cambio molto da prima un po' mi sembrano a me comunque vabbè tu invece non hai niente raccontami di beauty cose nuove che hai provato è vero ho sentito anch'io ne parlavano tutti io allora io l'avevo cercato e ma era diventato allora nel periodo in cui ne parlavano tutti io l'avevo cercato e non lo trovo da nessuna parte tutti finiti e poi ne ho trovato ma non quello che cercavo io perché io cercavo quello quello alla mora e dicevano che c'era il cat oppure il ticotà mi pare io comunque ho guardato ovunque anche il ticotà e non c'era proprio un bel niente c'era tipo alla fragola forse ma non è lo stesso effetto quella alla mora è quello top non si trova in nessuna parte se tu lo cerchi su amazon costa tantissimo sì ma io mi ricordavo che stessero su massimo tre euro quelle cosine invece adesso siccome è scoppiata la moda costano un botto e sai cosa ho visto? una ragazza su ticotà ha fatto vedere una specie di labello penso fosse proprio labello di marca però erano lei sta in Germania e quindi era made fatto in Germania insomma quindi sono le fragranze diciamo che vendono lì e c'è la lavanda no io lo voglio il labello la lavanda no fantastico sì cioè veramente però non lo puoi comprare perché non c'è da nessuna parte che puoi comprare in Italia non l'ho trovato neanche online acquistabile dall'Italia quindi niente bisogna andare in Germania per prenderlo e tornare a casa insomma per il labello è proprio lì anche la confezetta bellissima bellissima però quello l'amore è diventato tipo introvabile oppure se lo trovi costa tantissimo perché dicono che ti rende questo effetto delle labbra ti ti fa sembrare più plump non so è un effetto però più naturale che un rossetto o qualsiasi altra cosa perché te le coloro un po' esatto vabbè insomma dai allora spero che tu mi venga a trovare presto e buonanotte buon relax ciao grazie grazie per mettermi sempre i like per esserti iscritti al mio canale ci vediamo presto allora mi verrà a trovare ancora grazie ciao ciao ciao